e così non ti muovere tiralo fuori tutto sono delle poche che sta rilassata di solito se la tirano altrimenti tiralo fuori lascialo rilassata più pari come prima bravo sono pronti? senti dentro, no tu rilassi finiamo fino alla pari che te la stringo fino alla pari di più la riesci? fidi 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 rilassi che ti spiego lunga, te la senti sul palato vero? si ci sta il supercibio tanto per non re